Quest'oggi andremo a vedere la storia di uno dei difensori più forti del Manchester City. Per chi non lo conoscesse, lui è Mike Doyle. Doyle nasce il 25 novembre del 1946 a Manchester, proprio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. A 17 anni, nel 1963, inizia la sua carriera e la inizia proprio nel Manchester City. Nella squadra blu di Manchester, lui fa il difensore, ma all'occorrenza fa anche il centrocampista e si è ritrovato addirittura a fare pochissime presenze, una o due, la punta. Però oltre ad avere un cambio di ruoli in base alle partite, ha avuto un cambio drastico nella sua carriera perché è passato ad essere un semplice giocatore del Manchester City ad essere il capitano di quello che, prima del 2010, è stato il periodo più vincente e il miglior periodo della storia del club. Doyle totalmente...